Esprimo la mia più ferma condanna verso ogni azione violenta di genere, mai accettabile, mai tollerabile, mai scusabile. Gli ultimi fatti di cronaca, la storia di Giulia Cecchettin, ci impongono una riflessione su come agire il cambiamento, donne e uomini insieme. Non è una battaglia di una parte contro l'altra, è una rivoluzione culturale quella che vogliamo portare avanti, quella rivoluzione culturale che ha un principio fondamentale, il rispetto della vita e della libertà di ciascuna di noi di autodeterminarci. Le donne vittime di violenza non vanno lasciate sole. Mi rivolgo proprio a voi, dovete poter contare sul nostro aiuto, sentirvi forti per denunciare i soprusi e i crimini di cui siete vittime. I femminicidi rappresentano soltanto la punta dell'iceberg. Persecuzioni, maltrattamenti, violenze sessuali fanno parte dell'inferno quotidiano per molte donne. Noi, lo Stato, siamo al vostro fianco. Come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali mi sono chiesta che cosa potessimo fare, oltre alle misure che abbiamo già previsto per favorire l'accesso delle donne al lavoro. Mi sono detta che la violenza è anche economica. La mancata autonomia vi rende più vulnerabili. Bisogna mettere fine al ricatto economico in ufficio e tra le mura di casa. Se aveste figli, per loro fareste qualsiasi cosa. Lo so, ma non è giusto. Non è giusto. Perciò nel decreto lavoro abbiamo esteso l'assegno di inclusione dal 1 gennaio 2024 ai soggetti inseriti nei percorsi di protezione dalla violenza di genere. Un aiuto mensile per un anno e mezzo rinnovabile e sgravi contributivi per i datori di lavoro che vi assumono. Abbiamo previsto un contributo per l'affitto di casa e canali privilegiati di accesso al lavoro. Inoltre, e questo è molto importante, abbiamo stabilito che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione costituiscano sempre nucleo familiare a sé per accedere più facilmente all'assegno. Così avrete un'arma in più, la libertà economica di denunciare, per difendervi e tornare a vivere.